Ecco, volevo dirvi che poi alla fine di questo mio repertorio ci sarà anche la possibilità di fare delle cose richieste, anche non mie, insomma, io sono un po' come Pollani, cioè da Iula de Palma a che già è magari un pochino più difficile, però insomma, quindi non lo so, volete anche Galazia Roma, Margherita, insomma, e vi dirò, beh, ce n'è di un repertorio, e dopo questa minchata vi dirò che possiamo, i ragazzi non sanno che io sono così pirla, come si dice a Milano, e quindi ogni tanto fanno fatica a riprendere a suonare, perché ridono e poi è un po' complicato. Va bene, dai, grazie mille ancora di essere qui, buonasera. Grazie.